Romina Power non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, tra produttività e relax. Romina Power da sempre si contraddistingue per il suo modo di fare e con eleganza e classe ha conquistato milioni di fan, che attualmente la seguono anche sui social. Una cantante dal talento ineguagliabile, ha sempre riuscita ad arrivare dritta al cuore del pubblico e la sua fama internazionale. L'artista non ha bisogno di apparire in televisione o nei reality, ha alle spalle una carriera unica e ancora oggi ha una tra i cantanti più amati e stimati. Romina Power e i due amici di cui non può quadrato fare a meno video. Seguita da Pia di 200.000 follower, Romina Power condivide con i fan molti momenti delle sue giornate. Cosa il web può quadrato ammirarla sia nel tempo libero che nel corso di eventi professionali. Un legame che ormai va avanti da parecchio tempo, adesso anche grazie ai social, dove la cantante resta attivissima. L'ultimo video ha uno di questi. Infatti, Romina Power ha pubblicato un filmato dove si mostra intenta a registrare l'audiolibro come risolvere i nostri problemi umani ed ha spiegato che La cantante non può quadrato fare a meno dei suoi due amici che sono Daisy e Takito, i cuccioli che ama follemente e la seguono in ogni situazione. Li ha presentati Pia volte al pubblico e ai suoi fan che li adorano. Qualcuno tra i follower ha lasciato dei messaggi come Poi ancora Maggiore Maggiore Tra i fan poi c'è chi si domanda se la Power tornerà mai a cantare con il suo ex marito Albano. Insieme hanno fatto la storia della musica italiana e le loro canzoni sono conosciute anche all'estero. La coppia a distanza di anni continua ad emozionare e a commuovere il pubblico. Chissà se un giorno questo desiderio potrà mai diventare rialta.